Il trend della raccolta differenziata a Montesilvano è in costante e continua crescita, in linea anche con l'obiettivo Bandiera Blu. Nel mese di giugno ha raggiunto il 41,23% con una media annua del 40% su tutto il territorio comunale, sfiorando il 70% dove è attivo il servizio porta a porta. I dati sono stati comunicati dal sindaco Ottavio De Martinis, dall'assessore all'igiene urbana Paolo Cilli e dalla responsabile relazione esterna di Formula Ambiente Alberto Marchesani. È un dato che è migliore degli anni addietro ma non è ancora sufficiente. Proprio per questo motivo abbiamo deciso di comunicare nuovamente ai nostri cittadini la presenza sul territorio sia di due centri di raccolta che del centro del riuso. Un centro del riuso che è molto ben visto dai cittadini. Il centro del riuso per il conferimento di beni ed oggetti che non hanno ancora concluso il loro ciclo vitale e funzionalità è in via Nilo. I centri di raccolta in via In e a Montesilvano Colle. La campagna di comunicazione è double FAS e parte in estate nel periodo balneare non a caso. Perché ci siamo immaginati così come a Montesilvano ma anche in altri comuni che serviamo in tutta Italia che soprattutto per le persone che non vivono tutto l'anno nel posto in cui trascorrono le vacanze non ci sia una grande dimestichezza sui giorni in cui conferire quale rifiuto, dove, come eccetera. E quindi abbiamo fatto la campagna E questo dove lo butto che dà un po' di informazioni sui centri di raccolta, dove sono, in quali orari sono attivi, come si fa a conferire. Abbiamo fatto anche Ma Cosa Butti? E' il retro della stessa campagna. In pratica cosa succede? Che i cittadini che hanno qualcosa a casa che per loro non è più utile in un modo per dare una seconda vita a degli oggetti che magari a casa mia non servono più e a casa di qualcun altro invece sono utili, anzi possono anche rivelarsi fondamentali. Come verranno consegnati questi volantini? E' partito il cassettaggio in queste ore e quindi presumibilmente tra la giornata di oggi e domani probabilmente tutti i cittadini di Montesilvano lo troveranno nella cassetta delle loro lettere.